Negli anni 70, i più pensavano al posto fisso. Negli anni 80, un posto da lavoratore dipendente era il massimo delle aspirazioni. Negli anni 90, quasi tutte le famiglie presentavano più persone impegnate al lavoro. Occorreva superare la stasi economica per migliorare il tenore di vita. Ma il mondo è cambiato. L'assoluto di ieri è l'incertezza di oggi. Ti piacerebbe essere realizzato professionalmente, gestire il tuo tempo libero, essere indipendente e ricevere importanti guadagni? L'incertezza di oggi diventerà la sicurezza di domani. Cogli l'opportunità. Le possibilità imprenditoriali esistono. Come individuarle? Un'idea imprenditoriale vincente si individua attraverso precise conferme. Un mercato in forte espansione, vantaggi certi per i fruitori, un accettabile rischio di impresa, grandi margini di guadagni. La salvaguardia dell'ambiente attraverso l'energia pulita rende quello delle rinnovabili il mercato numero uno per i prossimi decenni. Energy Italy S.P.A. è leader in questo settore. In Italia il costo delle bollette e delle tasse è sempre più alto. Usufruire di vantaggi fiscali e abbattere le spese dei consumi interessa tutti noi. È proprio questo che offre Energy Italy S.P.A. con i suoi prodotti e servizi. Potrai anche avviare un'attività seria e stimolante, con zero investimenti e zero rischi. Energy Italy S.P.A. ti offre l'opportunità professionale della vita, in cui lo spirito imprenditoriale si armonizza con l'assenza del rischio di impresa. Potrai ottenere riconoscimenti sociali, guadagni meritocratici, crescita professionale e personale. Un apprendimento costante che assicura una crescita professionale e personale attraverso Energy Academy. Entra in un team di alto livello, con professionisti motivati, identificati e leali. Energy Italy. Con noi, verso il futuro.